Santo Stefano al veleno tra Nina Morice e Belen Rodriguez, entrambe ex compagne di Fabrizio Corona. La modella croata, che dall'ex re dei paparazzi ha avuto un figlio, Carlos Maria, 19 anni, nelle scorse ore ha lanciato accuse gravi nei confronti della modella argentina. Attraverso i suoi profili social ha accusato la sudamericana di aver avuto atteggiamenti irrispettosi nei confronti di Carlos. Nella fattispecie Nina ha pubblicato una chat intercorsa tra lei stessa e il figlio. Quest'ultimo, da quanto si legge, ha scritto che Belen l'avrebbe voluto l'avrebbe incitato a bere qualche bicchierino e che voleva che fumasse. Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare. Mi ha baciati in bocca. No voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cretennea. Tu portami via da questo paese, voglio stare con la mamma. Mi manchi. Questo è ciò che si legge nella chat e che ha scritto Carlos Maria alla madre Nina Morice. Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l'ingiustizia, ma non ci deve mai essere un momento in cui non riusciamo a protestare, ha evidenziato Nina, commentando la chat. La Croata ha poi pubblicato altre stories, spiegando che i fatti a cui si è riferita risalirebbero al 23 dicembre, quindi sarebbero relativi al giorno prima della vigilia di Natale. Sei una madre come me. Ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23 barra 12, sei una madre, si è chiesta la Morice, rivolgendosi direttamente alla Rodriguez e tagandola nella stories Instagram. Non dobbiamo odiare chi fa cose sbagliate o dannose ha aggiunto la modella croata, ma con compassione devi fare il possibile per fermarli, perché stanno danneggiando se stessi. Così come nel profondo inconscio soffrono per le loro azioni. Belen, Nina Morice e Fabrizio Corona, intrecci e legami Al momento Belen Rodriguez e Fabrizio Corona non hanno replicato alle pesanti accuse lanciate da Nina Morice. Quel che è certo è che le parole della Croata faranno parecchio rumore. Non chiari nemmeno i rapporti attuali tra Corona, la stessa Nina e Belen. L'ex re dei paparazzi pareva aver recuperato un equilibrio con l'ex moglie che però, negli ultimi mesi, in diversi frangenti ha accusato l'imprenditore, sostenendo che non abbia avuto comportamenti esemplari con Carlos Maria. Mistero anche sui rapporti che oggi intercorrono tra Corona e la Rodriguez, si frequentano in amicizia. Il legame amichevole è talmente forte da vedersi a ridosso delle feste natalizie, a patto che la versione di Nina venga confermata e che dunque Belen e Fabrizio hanno davvero trascorso del tempo assieme il 23 dicembre. Tutte domande che al momento non hanno una risposta chiara. Nel frattempo Belen sembra che sia tornata single. Con il giovane Antonino Spinalvese la crisi sentimentale non è rientrata e non ci sarebbe più spazio per ricucire. Attualmente i due conducono vite separate. Alla prossima